Quelle che fino al decennio scorso venivano definite nuove tecnologie sono oggi strumenti quotidiani essenziali a qualunque tipo di attività, ricerca artistica compresa. È interessante notare come la rete abbia plasmato la genesi stessa del pensiero, dall'uso di 140 caratteri alla facilità di riperimento dei pezzi della memoria. In questo senso la fase di ricerca è ampiamente agevolata. Ma non solo, anche i contenuti e gli immaginari crescono insieme allo sviluppo tecnologico. Open è un ragionamento in presa diretta sulla realtà, sulla rete e sugli scivolamenti che essa provoca in vari ambiti disciplinari. Open è inoltre un modo per far vivere un museo mettendolo in risonanza con la città e con il resto del mondo. Open indaga e connette e contemporaneamente fa scouting sul territorio. In questo modo avanza tecnologicamente e scopre le eccellenze. È un contributo fondamentale.